Grazie a tutti. 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 Questa esistono delle diversità nell'offerta gruppa dei prodotti e dei servizi particolarmente significativi. Cito la Val Camonica per prendere uno dei tanti luoghi anche fuori dall'Appennino in cui esistono tutti questi ingredienti, ma nell'Italia centrale ce ne sono tantissimi. Ecco, il problema è che se partiamo dal ragionamento sul turismo che faceva Grimaldi, il tasso di crescita dell'attrattività turistica nel nostro paese ci pone in 174esima posizione al mondo, 174esima, cresciamo pochissimo, è vero che laddove c'è più naturalità, più sostenibilità si è in controtendenza, è vero che nelle zone sciistiche in questo momento la domanda non è più nei confronti del turismo da discesa libera o da snowboard, ma ne crescono a due cifre tutti i servizi che sono legati a una fruizione completamente diversa, non infrastrutturata, della natura e della montagna, con cose curiose, tipo le slitte con i cani aschi, che hanno un successo clamoroso in alcune località di montagna, quindi anche con un target che non è esattamente quello a cui stiamo pensando in questo momento. Allora questo è un aspetto importante, cioè noi abbiamo bisogno di ripensare il modello di sviluppo e qui facciamo gli italiani, come si diceva, andando a cercare quelle che sono le nostre grandi caratteristiche che in una prospettiva di lungo periodo devono essere gli ingredienti chiave, che è la capacità di essere differenti in tutto ciò che caratterizza la nostra offerta, sia manifatturiera, sia culturale, sia ambientale, la biodiversità, tutto insieme, perché siamo un paese straordinario da questo punto di vista e non possiamo essere 174 esini dal punto di vista dell'attrattività. Poi il tema dell'attrattività è un pochino più complesso, perché noi abbiamo bisogno non solo di attrarre i turisti che vengono e stanno una notte e farli rimanere per cinque notti e magari dessagionalizzare le presenze. Abbiamo un problema di tenere le persone che ci vivono, magari ci vivono per metà del loro tempo, perché capita anche questo, che si decida di passare una parte della propria vita in contesti con certe caratteristiche dove la qualità della vita raggiunge l'apice e per l'altra metà poi magari si viva in contesti urbani perché sono comunque un concentrato di opportunità professionali e di altra natura. Ecco, questa era la prima considerazione che volevo fare al proposito. La seconda è relativa a un altro tassello. Allora, il ragionamento che noi facciamo con riferimento in particolare alle grandissime sfide come il climate change e più in generale all'uso delle risorse è abbastanza ben delineato. Anche qui troveremmo un consenso amplissimo se oggi il tema fosse stato l'uso efficiente delle risorse e le politiche che soprattutto a livello comunitario esistono in questo ambito. Noi abbiamo un grande bisogno di fare meglio con meno, non solo perché stiamo vivendo in un periodo di crisi, ma come abbiamo detto prima, perché stiamo recuperando una logica in cui, usiamo l'evocazione agricola, del maiale non si butta via niente. In questa prospettiva, evidentemente, si tratta di riuscire a capire come un uso efficiente delle risorse sia un tassello essenziale per quel modello di sviluppo di lungo periodo che dicevamo in precedenza. La consapevolezza su questo sta crescendo a tutti i livelli. Il problema è che non si riesce, come è stato detto, a mettere in moto un sistema. L'Italia è completamente ferma da questo punto di vista e l'Europa non viaggia molto più velocemente, malgrado i risultati sul climate change che citava Edo. Perché? Allora, qui la mia convenzione, quella che voglio condividere attorno al tavolo, è che sia necessario mettere insieme le forze in una logica che sia contestualmente top down e bottom up. Allora, le istituzioni in questo momento mostrano sempre di più la corda, la mostrano a livello internazionale. Siamo arrivati a io con dei lavori fantastici dal punto di vista dell'analisi della centralità della green economy, della resource efficiency, il rapporto dell'UNEB del 2011, quello dell'Ox, avevamo tutto. Siamo arrivati là, il documento con cui siamo usciti dalla conferenza di Rio vent'anni dopo è una schifezza. È lungo, anziché essere sintetico come quello del 1992. E non ci sono dei commitments. Porca c'è la miseria. Allora, a questo punto, come si fa a avere dei commitments, degli impegni veri da parte di tutti noi, dei progetti, per cambiare le cose? In quella direzione, dentro uno scenario complessivo, che ripeto, non è scritto, però non ci si mette molto a comporlo. Allora, c'è bisogno di aiutare le istituzioni che in questo momento sono più in crisi di quello che assolutamente dovrebbero essere, con una spinta dal basso. E questo è l'unico modo attraverso il quale si può recuperare una capacità di sintonia complessiva per fare davvero le cose insieme, perché delle istituzioni c'è un assoluto bisogno, anche di quelle internazionali che soffrono di più, in questo momento, della debolezza nel tenere insieme realtà, mondi, che non trovano il punto di convergenza. C'è un grafico nella mia presentazione, che in realtà è un grafico dell'UNEP, che legge l'insonesternibilità del mondo attraverso due variabili. I paesi che stanno meglio in termini di qualità della vita sono quelli che consumano le risorse degli altri. E siamo noi. E noi occidentali, quando andiamo nei contesti internazionali, dobbiamo tenere conto di questo elemento. Non riusciamo a essere convincenti nel momento in cui non siamo capaci noi di cambiare il nostro modello. gli stili di vita e il modello economico. Dobbiamo ridurre, in effetti, l'uso delle risorse. Arrivo al terzo tassello di questo ragionamento. Il terzo tassello è cittadinanza attiva. È stato detto che i cittadini, in questa logica multiattore e anche dal basso, cosa possono fare? Quale può essere il loro contributo? Allora, sposando la sollecitazione di essere concreti, vi racconto di un progetto che tra l'altro è stato presentato proprio a Spoleto. Eravamo insieme con Connect for Climate in quell'occasione. Ce la fai due minuti? Due minuti, sì, ce la faccio. Il progetto si chiama Disponibile. Ed è uno dei tre progetti che noi abbiamo messo in un contenitore che ha il titolo Spre K.O. Lottiamo contro lo spreco. è una traduzione se volete molto pragmatica del ragionamento che facevamo prima. Fare meglio con meno vuol dire innanzitutto eliminiamo gli sprechi e ne sprechiamo di risorse nel nostro paese. Infatti c'è lo spreco alimentare, però io voglio parlare lo spreco ambientale più specificamente. E in questo abbiamo concentrato la nostra attenzione su l'uso di quel patrimonio grigio su cui ci sono stati investimenti pregressi gli edifici, i capannoni, certi tipi di infrastrutture che oggi sono inutilizzati. E sono tantissimi. La crisi ha creato dei vuoti anche dentro le città, nelle periferie, nelle zone di contiguità tra città e campagna, in montagna. Da questo punto di vista non ci sono distinzioni e tutti soffrono della stessa dinamica. E dall'altra parte c'è la possibilità si parlava dello studio sul terzo settore che ha dato dei numeri incredibili poi bisogna ragionare bene quale di quel terzo settore si occupa davvero dei beni comuni. Però è il discorso che si farà in un altro contesto. Di riuscire a far sì che tutta questa capacità di azione secondo principio di sossidiarietà il nostro paese ha anche l'articolo 118 della Costituzione che prevede questa partecipazione dal basso orizzontale dei cittadini facilitata dalle istituzioni per costruire progetti concreti di uso delle cose. Allora si va da quelli più semplici che stanno cominciando a fiorire che a livello internazionale in alcuni contesti sono degli elementi importantissimi per la costruzione di un'azione collettiva e di coesione perché quello di cui abbiamo bisogno che è l'ingrediente finale del ragionamento che facevamo prima è di riuscire a essere parti di una strategia comune. Le famiglie rispetto alla montagna sono una dimensione importante ma non bisogna limitarsi a quella bisogna parlare di comunità perché è solo così che si riesce a costruire davvero un nuovo modello. Ecco, in questo senso la capacità da parte diciamo di noi cittadini da un lato di segnalare di individuare i luoghi che sono sprecati e dall'altra di essere propositivi sul come possono essere utilizzati facendo sì che tanti piccoli impegni che ci sono già stiamo mettendo in rete in realtà tante iniziative che esistano possano essere un esperimento collettivo visibile perché poi il problema è non solo fare le cose ma farle vedere e creare aggregazione collettiva da questo punto di vista su il fatto che nel nostro paese c'è una capacità di usare e valorizzare le proprie risorse in maniera sistematica. Anche qui poi chiudo dove il concetto di valorizzazione non ha tabù non c'è una valorizzazione sbagliata nelle aree protette se questa è corrispondente al fatto che le aree protette sono il luogo della conservazione delle risorse in primis. sono stato l'altro giorno sempre per un convegno in un posto che mi ha sorpreso nel centro delle Marche parlavamo di Italia Centrale c'è un posto che si chiama Badia di Fiastra in cui 180 ettari gestiti da una fondazione privata attraggono tutti i giorni e in particolare nei weekend migliaia di persone in un territorio che è quasi un'area interna è abbastanza vicino al mare a dire il vero però non è sicuramente il luogo emblematico in cui noi possiamo avere un pacco tematico non siamo a Rimini o Riccione è anche una riserva naturale dello Stato c'è un parco archeologico con un teatro romano e sono riusciti una abbazia circense cioè un paradiso e nel nostro paese di posti di questo genere ce ne sono dove il tema dell'attrattività ritornando al tema iniziale si può toccare con mano e se andiamo in giro nel centro dell'Italia di luoghi che hanno tutte queste caratteristiche e che magari qualcuno straniero ha anche individuato ma se lo tiene stretto perché è un posto da godere intimamente da un certo punto di vista siamo estremamente lotati ecco il ragionamento è questo facciamo sì che questi piccoli gioielli siano ovunque nel nostro paese non ci siano delle brutture incredibili perché abbiamo sprecato un patrimonio ripeto grigio su cui sono stati fatti tantissimi investimenti per generarlo e smettiamola poi di utilizzare il suolo per altre cose perché ci serve per l'agricoltura per un'agricoltura sostenibile che sostenga quella componente manifatturiera che è un ingrediente chiave del nostro paese e anche qui di esempi ne abbiamo tanti ma non ne parliamo oggi abbiamo finito dopo aver riflettuto sui mutamenti climatici globali siamo finiti a parlare di proposte concrete che mi sembra la cosa più importante che se noi restiamo sempre a a richiacchiere ci dimentichiamo delle cose che poi tutti i giorni tocchiamo con mano o nel bene o nel male citando un'esperienza bella se vi dico Rosarno vi viene in mente il peggio che peggio sono stato recentemente andato a visitare Medma la città Rosarno si chiamava Medma era una città della Magna Grecia c'è un piccolo museo un piccolo parco archeologico uno splendido in mezzo uno splendido oliveto scopriamo un altro Rosarno ecco non c'è solo l'abbatia di Fiasta dove forse nelle Marche è anche senza forse è molto più facile farlo c'è anche in questo paese che è la negazione forse del bello Rosarno se vi capita fermatevi un attimo c'è anche lì il bello natura storia cultura assieme e anche manifattura perché lì facevano della splendida ceramica ahimè una cultura che si è persa un attimo lì facevano anche lì facevano c'è anche lì facevano che si è persa